Mi chiamo Rosalia Palmieri e lavoro in Flex come Quality Assurance Engineer. Mi chiamo David Ward, sono responsabile del gruppo di Systems Engineering qui in Flex Milano. Mi chiamo Fabio Rotelli e sono Senior Director Global Account Management per Flex Health Solutions. Per me le opportunità di crescita in Flex sono illimitate perché Flex mi ha offerto la possibilità di seguire diversi progetti e mi offre la possibilità di avere una visione globale e di seguire lo sviluppo del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. La parte mio lavoro che mi piace di più è proprio quella di costruire delle relazioni con colleghi e con clienti che provengono da tutto il mondo. Consiglierei sicuramente a un ingegnere di venire a lavorare in Flex anche perché noi progettiamo e sviluppiamo sistemi complessi con tecnologia sicuramente all'avanguardia. Se dovessi descrivere Flex in una sola parola userei innovazione. Se dovessi descrivere Flex con una parola userei la parola globale. Flex è flessibile perché noi facciamo di tutto per soddisfare il nostro cliente e di conseguenza siamo anche appassionali nel nostro lavoro e anche verso il cliente. Collegata perché noi lavoriamo con così tanti fornitori diversi, siti diversi ma anche a livello globale. Collegata perché noi lavoriamo con così tanti fornitori diversi, siti diversi ma anche �chlossen. Grazie a tutti.